Via libera all'unanimità dalla Commissione Ambiente del Consiglio regionale alla proposta di legge che cancella l'emendamento relativo alla depurazione industriale dei fanghi finito all'attenzione della DDA di Firenze per reati ambientali emersi nelle inchieste sulle infiltrazioni dell'Andrangheta in Toscana. L'emendamento secondo le indagini avrebbe dovuto sottrarre il Consorzio Acquarno dall'obbligo di sottoporsi alla procedura di autorizzazione di integrazione ambientale e fu approvato nel maggio 2020 quando l'attuale governatore Eugenio Gianni era presidente del Consiglio regionale. È stato presentato regolarmente perché è fra gli incartamenti che io ho qui nella mia cartellina fin dall'inizio. Quindi io lo metto in votazione, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Vedo di là, Baldi mi indica quattro favorevoli e gli altri non presenti, quindi è approvato. All'ultima seduta della Commissione Ambiente che ha licenziato il testo con l'obiettivo di cancellare l'emendamento ha partecipato anche Gianni insieme all'assessore regionale Monia Monni e all'avvocato generale della Toscana Lucia Bora. A questo punto il provvedimento passerà dalla Commissione all'esame dell'Aula nella prossima seduta dell'Assemblea Toscana.